sono katia saletti in cucina dai mosto di chiavari in questo mese rappresento qua italy la liguria i nostri sono piatti della tradizione classica locale facciamo una pasta al pesto di nostra produzione trafilata al bronzo e fresca all'uovo che sono reginette con fagiolini patate pesto una fritturina di acciughe perché rappresentano molto il levante parte panate parte fritte con le verdurine in pastella la cimera genovese che il classico piatto freddo di questa fagione della tradizione e un frittino all'italiana per chi non ama il pece fatto con stecchi crocchini latte dolce cottolettine e sempre le verdure in pastella e una torta di mandorle accompagnata da una gelatina di limoni in questo caso sono del mio orto freschissima vi aspetto qua nel padiglione di italy nella stecca nord rappresentiamo la liguria e venite perché è interessante tutto tutto l'insieme delle cose piatti particolari cuochi eccezionali insomma dovete venire perché si mangia molto bene ovunque eccezionali insomma dovete venire